salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video eccoci qua pronti per un nuovo match in una bella giornata di sole bella tranquilla siamo pronti per questa nuova battaglia belli nervosi arrabbiati noi tifosi ovviamente quindi ci aspettiamo una prestazione ottimale soprattutto cattiva di gruppo su purtroppo in questa situazione particolare che sta accadendo in questi giorni i ragazzi sono stati in ritiro quindi vediamo cosa sarà successo in questi giorni soprattutto se ci sarà un'inversione di marcia ricordo che oggi saremo fuori casa col cittadella partita bella tosta per noi anche a livello sentimentale no perché con loro pure quando facemmo i playoff uscimmo quindi un po di il cittadella sempre giocato bene staremo a vedere a noi conta solo una cosa la vittoria detto già ragazzi sicuramente vi chiederete ma parlerà della situazione la padula uscirà in questi giorni un video a parte dove farò un remake di tutta la situazione e esprimerò il il mio parere detto ciò ci vediamo a fine partita e sempre forse a benevento eccoci qua ragazzi partita terminata 0 1 benevento troviamo tre punti importantissimi fuori casa ma purtroppo bisogna analizzare anche la prestazione per l'ennesima volta è pari a zero cioè quest'oggi non ho capito nemmeno la formazione iniziale del mister che per l'ennesima volta cambia persone all'interno del campo non mette mai una formazione univoco continua per far sì che i giocatori abbiano più feeling tra di loro in campo giocando sempre gli stessi no poi ovviamente ci sono i cam in situazioni di difficoltà però quest'oggi mette full on che ritorna sulla fascia e scende sempre in broda centrocampo a fianco a campora e te gli avanti c'è a un certo punto non sapevano nemmeno loro dove andava si trovava in signe a centrocampo forti a centrocampo perché scalavano addirittura gli unita come punta c'è assurdo e comunque bisogna dire che occasioni da golle eclatanti non ce ne sono state perché per l'ennesima volta continuiamo a non esprimere un gioco poi ovviamente oggi diciamo gli avversari erano più scarsi di noi dobbiamo essere onesti e il culo passatemi il termine la fortuna ha voluto sì che in un'azione in un contropiede assurdo troviamo il gol però poi effettivamente non è che chissà che abbiamo fatto di tanto eccezionale molti di voi diranno eh però ci lamentiamo ma abbiamo vinto ok ragazzi ma andiamo a analizzare anche le ultime prestazioni facciamo grandi prestazioni zero gol facciamo segnali avversari cosa che è successa oggi e oggi il cittadella ha avuto molte molte occasioni eh migliori rispetto alle nostre soprattutto avanti la porta la differenza è che erano di un livello più basso del nostro e quindi alla fine non hanno concretizzato questa è la differenza per chi vuole vedere il calcio in maniera seria e ne capisce poi per i per i soliti tifosotti che vogliono dire eh ma ci lamentiamo anche quando vinciamo non è questo non è questa la situazione questi tre punti sono fondamentali dato che le squadre avanti a noi vincono quindi per noi era importantissimo vincere ora bisogna abbassare la testa e giocarsela in casa contro il Como importantissimo perché il Como accorcia su di noi eh perché vince in casa due a zero e noi eh vinciamo fuori casa quindi in casa dobbiamo prenderci tre punti fondamentalissimi fondamentali al cento per cento ragazzi fateci sapere la vostra sotto a questo video soprattutto chi è stato il migliore in cap e soprattutto se avete condiviso anche quest'oggi le idee del del mister Caserta che per me deve essere lo stesso esonerato e poi soprattutto ringraziamo per l'ennesima volta il nostro direttore sportivo che fa questi come Farias super giocatore da fenomeno è arrivato non si è ancora visto e la prima volta è la terza volta che si vede negli ultimi minuti cartellino rosso per reazione alla grande diretto lei fa sempre delle scelte al bacio va bene comunque alla fine con la pioggia oggi e con il vento sempre forza bene viento